in conferenza stampa con il tecnico dell'audace cerignola dino bitetto allora mister riavvolgiamo un attimo il nastro ripartiamo da quello che è stato il tonfo di domenica scorsa a taranto che partita è stata naturalmente dispiace averla persa così a pochi minuti dal termine più che un tonfo è stato è stato un risultato che non ci aspettavamo e che non meritavamo assolutamente però adesso siamo siamo già venerdì dobbiamo come detto tu ricominciare noi siamo riusciti quasi sempre questa è la quarta e la quarta sconfitta e dopo dopo le altre tre sconfitte siamo sempre riusciti a rialzarci in fretta e a continuare la nostra la nostra corsa che che non abbiamo né dimenticato e né allontanato più di tanto come dicevamo bisogna ripartire e bisogna farlo subito a gragnano contro un avversario che viene da una vittoria contro un'altra delle squadre che è lì nelle zone basse della classifica e ci riferiamo al pomigliano sì abbiamo la abbiamo la possibilità di ricominciare contro contro il graniano sarà una partita sicuramente diversa rispetto a quella giocata e bene dal cerignola diversa anche perché l'avversario è diverso è diverso anche lo stadio il campo è diverso anche il il rettangolo di gioco come dimensioni è diverso anche la superficie del rettangolo di gioco sarà una partita molto più vivace molto più veloce e lì dobbiamo essere molto più attenti di quella che è stata la partita di domenica scorsa ecco bisogna peraltro migliorare il proprio rollino di marcia fuori casa è una da un cerignola che qui tra le murami che al monterisi si esprime bene e primo nella graduatoria riferite i match casalinghi fuori casa qualche punto in meno insomma sono quattro sconfitte sono quelli che ci hanno ovviamente danneggiato più di tanto nel nostro cammino esterno perché poi per il resto abbiamo sempre abbiamo sempre mantenuto fede a quelle che sono le nostre le nostre aspettative le aspettative magari anche di altri gli altri si aspettavano molto di più noi che sappiamo che questo era un campionato sapevo già dall'inizio e l'ho sempre detto che non è un campionato dove tutto è rosa e fiori nella maniera più assoluta le difficoltà ci sono le abbiamo le abbiamo avvertite certo adesso ci sono altre due squadre non solo una davanti davanti alla nostra classifica però stiamo lì stiamo lì e noi da calciatori da uomini e da professionisti perseguiamo e continueremo a perseguire quello che è il nostro obiettivo indipendentemente da chi da chi ci sta davanti grazie a mister Dino Bitetto